buongiorno a tutti siamo con con il professor paolo ma in occasione appunto della festa del prodigio vi facciamo dire due parole per chi non fosse a conoscenza del fatto. Il prodigio di cui stiamo parlando è il miracolo avvenuto alla Madonna del Castello per capire e ricostruire questa vicenda bisogna ricorrere alla storia e partire dall'anno 1443 in cui è avvenuto alla distruzione del borgo di Lemine Inferiore e con questa distruzione sono stati cacciati via tutti gli abitanti sono stati abbattuti tutte le case e anche il castello. L'unico edificio che è stato risparmiato era la chiesa pre romanica di San Salvatore quella chiesa che si trova dietro il santuario della Madonna del Castello quindi non c'erano più abitanti nella contrada e la chiesa era in uno stato di grave abbandono era una chiesa in stile bizantino quindi con la facciata con tre grandi archi quello centrale più grande dei due laterali e sopra uno di questi tre archi erano divisi da pilastri sopra uno di questi pilastri era stata dipinta nel dodicesimo secolo una Madonna col bambino una Madonna che viene diciamo così in modo specifico chiamata Odigittria cioè Madonna che indica il cammino perché ha in braccio Gesù e con una mano indica il figlio che tiene in braccio e il bambino ha in mano il rotolo della sacra scrittura e quindi praticamente la Madonna indica la via cioè Gesù la via per la salvezza ora questo affresco si trovava sopra il pilastro quando è stato diciamo così abbattuto soprattutto la contrada di almeno basso di limite inferiore ed è anch'esso in abbandono la facciata della chiesa avendo questi questi tre grandi archi d'accesso era piuttosto fragile dal punto di vista architettonico e quindi con l'abbandono rischiava il crollo allora hanno costruito un contrapporte un muro contro questo pilastro dove era dipinto l'affresco dalla Madonna Odigittria e evidentemente questo questo dipinto è rimasto nascosto dietro il muro costruito e ecco che è successo questo miracolo questo prodigio che hanno trovato il muro respinto dalla Madonna di un metro e mezzo quindi non dobbiamo parlare di una apparizione alla Madonna del Castello non è apparsa nessuna Madonna ma soltanto di una della ricomparsa di un affresco che era stato occultato da questo muro posto contro ecco questo è il prodigio la data che è stata tramandata è il 26 aprile 1506 però da alcuni documenti si ricava che già da alcuni anni si stava lavorando per costruire la cappella di Santa Maria di Castro cioè di Santa Maria di Castello significa quindi che questo prodigio è avvenuto qualche anno prima e questo è confermato anche dalla visita pastorale di San Carlo Borromeo avvenuta nel 1575 nella quale si dice che dicono gli uomini che è circa 80 anni fa e quindi vedete che siamo prima del 1506 c'era questo affresco che è stato occultato e che è ricomparso ecco queste mi puoi dare anche queste notizie che si possono trovare anche su questi libri che tu hai pubblicato sì c'è il libro della Madonna del Castello in tre volumi dove si può trovare il secondo si intitola proprio il santuario e inizia appunto da questi avvenimenti e chi volesse acquistare questi libri dove li può trovare giù al Sant'Omè dove c'è la segreteria ecco ce li hanno lì e poi ritengo che se si va durante il periodo in cui sono aperte le chiese che ci sono i volontari che tengono aperto ce li hanno lì quindi sul banchetto si possono chiedere ok comunque poi sono anche acquistabili anche online in questo periodo sono acquistabili online attraverso IBS e gli puoi dire anche altri libri che tu hai scritto perché so che i nostri utenti sono interessati sulla storia di Almenno so che hai scritto anche su Sant'Omè allora il primo è quello Limine del 1938 poi fatto San Giorgio San Giorgio e Limine mi ricordo la data poi il Sant'Omè poi quelle della Beneficenza mi ricordo ad Almenno questi della Madonna i tre volumi della Madonna del Castello e più varie guide poi quello degli Agustiniano che parla di della nostra chiesa di San Nicola e della chiesa Santa Caterina di Tremozia del Nel San Bartolomeo e poi ho lavorato anche il primo volume della storia di Almenno San Bartolomeo anche quello sono tre volumi Grazie